Sulla solita trivela di Perrella si apre il collegamento Power Ranger contro Iene Wighterman, il punteggio è di 2 a 2 con le Iene che ritrovano Capitan Balsamo tra i pali, ora il rinvio lungo in avanti, attenzione Danilo Brodomo, la poggia con il piatto per il tankerro, la serve Perrella, rientra Perrella, devia in angolo, sempre Balsamo, Power Ranger rimaneggiatissimi che però riescono a tenersi in gioco a cui si afferrano Ferrella e Oliviero, Le Cipro che le scorrettezze l'arbitro farà ripetere il tiro dalla bandierina, lo stesso Cirro con il sinistro solito, attenzione a Prodomo sul secondo palo, è servito, Prodomo ci mette la zampa, non riesce però a inquadrare lo specchio, versione muratore quest'oggi Danilo Brodomo, il rinvio delle Iene con Balsamo, con le mani lungo in avanti, decimo lascia scorrere per Ribera, quest'oggi portierone, serve Perrella, prova un colpo all'Ibrahimovic, non gli riesce, palla all'indietro, Abdoulaye contro Perrella, ancora Abdoulaye in mezzo a due, guadagna, no, una rimessa laterale che per i Power Rangers, si incaricherà della battuta allo stesso Danilo Brodomo, versione Arcigno difensore, attenzione prova il filtrante, che idea, una genialata di Prodomo, è un colpo di genio che nessuno capisce dei suoi compagni, d'altronde è una spanna sopra gli altri Prodomo, soprattutto in difesa, attenzione qui decimo, recupera palla, la palla per Perrella, prova la scucchiaiata di Tessa, fa buona guardia la difesa delle Iene, parla per Briglio, buono il filtrante di Perrella per Ciro, Ciro, che gol del bomber Massimo Ciro, quest'oggi in prestito, esterno destro in anticipo sul portiere in uscita, 3 a 2 per i Power, che si portano avanti nel punteggio, nonostante una formazione rimaneggiatissima, vediamo la reazione degli Azzurri, buono qui il numero del nuovo acquisto, che prova poi a calciare con il destro, pala rimpallata, fa scorrere il difensore prima di inviarlo lungo, rimessa laterale per i Power, l'ultima prima di chiudere il collegamento, Prodomo allarga per Ciro, prova il sinistro di prima intenzione, Cicca stavolta la conclusione, ultimissima con Abdullai, trante ancora per Miccio che si gira bene, attenzione, il tiro rimpallato, palla poi che termina sul fondo, 3 a 2 per i Power Ranger contro le Iene, chiudiamo qui il nostro collegamento. Eccoci qui con Miccio, il suo poker sconfigge una delle squadre migliore del torneo, i Power Ranger per 6 a 5, allora Miccio dicci un po' qualcosa di questa gara? Io ho giocato bene, sia in difesa e in attacco, beh che dire, ho cercato di giocare bene pure in attacco, infatti ho fatto un poker, che dire. La rete che ti è piaciuta di più delle tue, ce la racconti? Non mi ricordo, rispetto al triangolo, il triangolo con Alessandro Olivero, beh la passa al centrocampo ad Alessandro Olivero, lui fa un passaggio filtrante in mezzo a due giocatori e la buca. Quindi è una squadra che può giocare anche senza Simone Magri? Eh diciamo così, dai. Non si pare, va bene, grazie ragazzi. Ciao.